Ciao amici blucerchiati, la Samp vince, batte l'Udinese 2-1 in rimonta, per una volta riusciamo a ribaltare un risultato, una partita che si era messa male, stavolta succede grazie anche e soprattutto ai cambi di Mr. Ranieri che dopo 60 minuti di calcio abbastanza brutto e poco produttivo da parte della Sampdoria decide di cambiare gli uomini, il modulo si mette a tre con due punte davanti e alla fine una di queste due punte deciderà la partita, è evidentemente il man of the match Ernesto Torregrossa che ricorderà a lungo questa serata e permette alla Sampdoria di ritrovare i tre punti con un colpo di testa bellissimo su un gran cross di Tommaso Augello. Andiamo con le pagelle partendo come sempre da Emil Audero che anche oggi è decisivo, sette per il nostro portiere che alla fine deve effettuare un totale di quattro parate, due su Lasagna, una è facile sul tiro al volo di Lasagna che però esce molto debole, una è più complicata di piede sull'inserimento di Lasagna dopo pochi minuti dall'inizio della partita nel primo tempo, ne fa anche una bella anche se di Lasagna è fuorigioco quindi non vale, una su Depol nell'azione che poi porta al vantaggio dell'Udinese, tra l'altro il tiro di Depol che finisce in porta anche quello, Audero da terra lo sporca un po' ma non riesce ad allontanarlo dalla porta, da terra, Audero realizza la parata più bella della serata e una delle più belle del suo campionato, cioè quella su Mandragora che da dentro l'area piccola sostanzialmente è vero che un pochino lo favorisce il tiro non esattamente irresistibile e potente dell'ex centrocampista del Genoa però Audero da terra riesce a schiaffeggiare via questo pallone mantenendo la partita in equilibrio. Difesa che ha sofferto un po' ma non secondo me per colpe individuali o di reparto della difesa, abbiamo fatto più fatica a leggere a centrocampo la partita quindi per me è tutta sufficiente anche a livello di singoli la prova dei difensori partendo dal terzino destro Bartosz Bereginski, 6 e mezzo, una sola sbavatura secondo me nella sua partita e cioè nell'occasione, la prima dopo quattro minuti in cui Lasagna impegna di piede Audero, Bereginski si fa scappare Zegglar in modo un po' troppo semplice alle spalle. Poi si metterà terzo a tre nella difesa dopo il cambio modulo da parte di Ranieri nel secondo tempo e secondo me è un ruolo che forse gli si addice addirittura di più perché è un giocatore che anche quando la sampa al pallone è discreto fino alla tre quarti poi non è di grande propulsione appoggio offensivo da sovrapposizioni e cross non è un uomo da grandi assist da bonus del fantacalcio per intenderci. Comunque rimane solida la sua prova è con entrambi i moduli, alla fine sarà un dato interessante quello dei duelli vinti, 74% per il polacco tra offensivi e difensivi, la sua media in campionato è del 52%, quindi è stata una bella prestazione del terzino destro. Yoshida, 6, tranquillo e sicuro, difensivamente secondo me non ha sofferto granché perché l'udinese non l'ha molto sollecitato, buono anche il dato significativo e vale sia per lui sia per Colli della pulizia e precisione in impostazione, l'udinese ci ha lasciato impostare raramente, ci è venuta a prendere alta e quindi 96% di precisione nei passaggi, 51% corretti su 53% tentati, 11% intercetti e appunto una discreta sensazione di sicurezza, poi lui con la difesa 3 si è messo a comandare da centrale e anche lì secondo me ha fatto bene. 6 anche per Omar Colli, il Gambiano anche lui, molto pulito in impostazione, segno che la Samp non ha tentato di lanciare lungo praticamente mai, 43 passaggi giusti su 45, tentati anche per lui una percentuale molto alta, poi vabbè, quando ci regala quelle gioie, quelle emozioni con l'accompagnamento del contropiede in modo assolutamente insensato, sul 2-1 con ancora due minuti da giocare nel recupero nell'azione che poi porta all'occasione per Keita che si fa parare il 3-1 da Musso, non so perché Colli gli prenda questa voglia di accompagnare in modo scriteriato i contropiedi, ma gli si vuole bene anche per questo. Chiudiamo la difesa con Tommaso Augello che finalmente ci ripropone una prestazione decisamente sufficiente, 6 e mezzo per lui perché ovviamente scrive push sul pallone che crossa per Torregrossa, citazione dell'attaccante neoacquisto della Samp che ha detto che il cross di Augello era molto bello, in realtà Torregrossa ci mette molto del suo perché stacca più alto e più convinto di Zegelar che non è esattamente un giocatore di bassa statura. Per Augello è stata una partita appunto nel primo tempo un pochino difficoltosa, non precisissimo negli appoggi ma soprattutto ha potuto respirare un po' difensivamente perché l'Udinese non gli ha messo un uomo a sollecitarlo continuamente con gli uno contro uno. Augello è rimasto solido, tra l'altro segnalo e ho apprezzato moltissimo proprio perché è decisamente un tema oltre a una mancanza di un'alternativa per Augello. In Rosa il fatto che difensivamente soffra troppo, avversari particolarmente bravi nell'uno contro uno offensivo, l'azione che poi porta al vantaggio della Sampdoria nasce da un'azione difensiva di Augello che con l'Udinese che attacca segue in area fino dalla parte opposta, quindi sul nostro fronte destro difensivo, De Paul gli si attacca addosso, gli ruba il pallone e fa partire l'azione di contropiede, forse non succede esattamente lì il pareggio ma succede poco prima e quindi l'ho apprezzato da lì poi il cross, sappiamo tutti che Augello è molto molto bravo. A grossare, passiamo al centrocampo, Antonio Candreva 6,5, il solito campionario di cose nel bagaglio dell'esterno classe 87, personalità, iniziativa, tanta confusione tattica, Ranieri dice a lui ed Amsker nel primo tempo di stare larghi, lo fanno praticamente mai, tante palle perse, saranno 17, la media di Candreva in campionato è 11, aveva fatto peggio soltanto contro la Lazio nella sua prima partita da titolare a inizio campionato, che erano stato e 20 in quell'occasione, comunque tante belle idee per Antonio Candreva, tra cui l'unica occasione creata nel primo tempo, il tiro di Quagliarella nasce da un suo filtrante per l'attaccante maglia 27 e poi ovviamente si guadagna rigore con tanta malizia, con tanta astuzia, mestiere, mette il piede prima che Mandragora rinvii e quindi si porta a casa questo rigore, giusto, lo trasforma in un modo che ci fa tanto soffrire mentre il pallone viaggia verso la porta di Musso, poi ci fa tanto godere, quindi bravo Antonio Candreva. Passiamo al cuore del centrocampo dove sono partiti Ekdal e Silva dall'inizio, partita di grande sofferenza per entrambi dal punto di vista difensivo, è stato l'emblema, la fotografia del nostro problema nel tentativo di contenere l'Udinese alla fine, per Albin Ekdal per me il voto è 6 perché è una prestazione comunque sufficiente, solida, pulita tecnicamente, condita da 10 palloni intercettati, soffrono però Ekdal e Silva la disposizione dell'Udinese che gioca con un mediano basso, Wallace e due mezzali, De Paul e Mandragora contro i due nostri e questa difficoltà è fotografata dall'azione che porta in vantaggio l'Udinese, se ve la riguardate dall'inizio la Samp è a difesa schierata e la palla c'è l'Udinese in difesa, c'è la Samir che la porta fuori dalla sua area di rigore, arriva fino a centrocampo ed è praticamente in posizione di regista, sta facendo il Wallace in quel momento e in quel momento parte De Paul verso l'area e Silva già se lo perde un po', gli sta dietro ma l'ha già perso, Ekdal si trova un po' a metà strada, si lascia sfilare Mandragora alle spalle, Samir serve Mandragora e tagliano una prima linea nostra, poi Mandragora ha spazio per alzare la testa, vedere De Paul ai limiti della nostra area di rigore lo serve e da lì nasce il gol, quindi probabilmente anche questo ha fatto decisamente, definitivamente propendere Ranieri per il cambio di modulo. Comunque sei per Ekdal, sei e mezzo per Silva che al di là della partita impegnativa dal punto di vista difensivo contro De Paul, l'azione nel primo tempo in cui De Paul parte dalla sua tre quarti campo con una Silva, con una finta, lascia sul posto Silva e poi arriva fino dentro la nostra area crossando per la Sagna che manca al colpo di tacco, è emblematica di come Silva non sia esattamente l'accoppiamento adatto difensivamente per De Paul, dopodiché in 73 minuti il portoghese rimane lucidissimo in impostazione, 41 passaggi giusti su 43 tentati, quindi una percentuale altissima, gli piace giocare corto evidentemente, però perde soltanto due palloni, in media sono nove a partita per il portoghese in questo campionato, quindi belle sensazioni da Adrian Silva. Un po' meno bene secondo me Michael Damsgaard che oggi non mi ha, nella partita contro l'Udinese, quindi ieri rispetto al momento in cui registriamo, non mi ha convinto e secondo me non arriva alla sufficienza 5 e mezzo, gli riesce un dribbling sui quattro tentati, forse inizia a tentarmi l'idea che sia meglio schierarlo da sottopunta o da appoggio alla punta, per carità non è stata una partita negativa in assoluto, nel primo tempo è lui quello a tentare insieme a Candreva appunto le maggiori iniziative, a prendersi più responsabilità, però fa fatica ad accendersi, fa fatica a creare occasioni e appunto potrebbe essere una necessità quello di averlo disponibile più come esterno che come attaccante, perché in attacco adesso tra punte, sottopunte, un po' d'abbondanza c'è, comunque si rifarà. Passiamo alla fase offensiva dagli attaccanti che sono partiti titolari, riproposta dopo che l'ultima volta era successo a Roma all'Olimpico da titolare la coppia Verre-Quagliarella, è uno di quei casi in cui si fa fatica a giudicarne la prestazione che non è sufficiente, non è positiva diciamo così, ma non so quanto per demerito dei diretti interessanti o per colpa di tutta la fatica che faceva la squadra ad arrivare fino alla fase offensiva appunto. Verre 5,5, Quagliarella 5,5 per il centrocampista romano, un tentativo di farsi vedere tra le linee di difesa centrocampo dell'Udinese che però si è rivelato spesso infruttuoso, per Quagliarella una partita in cui ci sono due highlight principalmente, cioè il tiro in porta parlato da Musso su assist di Candreva, è un'azione in cui nel secondo tempo è Quagliarella a lanciare Candreva in contropiede a Udinese un pochino scoperta, azione che si concluderà con un cross di augello respinto in calcio d'angolo. Dicevamo dei cambi, sono entrati tutti molto molto bene, lasciamo da parte Askilzen che stavolta, anche stavolta entra così come contro l'Inter e l'unica cosa che fa è farsi ammonire per una trattenuta su un avversario che gli stava scappando, lo diciamo sempre, sono minuti che possono far bene, aiutare la sua crescita, però ancora evidentemente è un giocatore che non può incidere in questo tipo di partite, peraltro così pesanti dal punto di vista del contesto campionato. E' entrato nel secondo tempo Morten Torsby, 6 per il centrocampista norvegese, che parte per prendersi un po' di riposo dalla panchina dopo una delle sue prime prestazioni negative, quella contro lo Spezia di lunedì scorso, anche se comunque entra bene, sostanzialmente confezione insieme a Candreva all'azione del rigore restituendogli un pallone di testa da terra, insomma un'azione non propriamente pulita, dopodiché quando l'ho visto su De Pol, e la Sandorio si era messa con tre centrocampisti, quindi Torsby faceva la mezzala sinistra, o il mediano perché Silva giocava un po' più alto, ma insomma gravitava da quelle parti, ho pensato che lui sarebbe stato l'avversario giusto da franco bollare a De Pol o comunque da farglielo controllare, è andata così, Torsby comunque è entrato bene. Così come è entrato molto bene Gaston Ramirez, interessante questo nuovo uruguaiano, nuovo acquisto nel 2021 della Samp che entra e dimostra grande pulizia, grande tranquillità, mi sembra un giocatore che non ha il nervosismo nelle vene e da lui parte l'azione del 2-1, perché lui che la lavora con Keita, altro nuovo entrato, apparecchia l'azione, la situazione per il cross di Augello, è bentornato Gaston Ramirez. Abbiamo detto che è entrato anche Keita Balde, 6, poteva essere un voto peggiore perché il fatto di essersi mangiato il gol del 3-1 e aver gestito Maluccio una palla sulla bandierina sostanzialmente rilanciando un contropiede dell'Udinese quando già eravamo in vantaggio, potevano essere errori gravi, pesanti, non lo sono stati. Al di là della partecipazione del gol del 2-1 appunto non ha fatto grandissime cose, ma continuo a dire quello che dico sempre quando lo vedo giocare, cioè che mi dà l'idea intanto di perdere rarrissimamente il pallone. È davvero difficile toglierlo per le sue proprietà tecniche, per la sua conformazione fisica davvero ben strutturata, mi dà sempre l'impressione di grande pericolosità. Il più pericoloso di tutti è stato Ernesto Torregrossa nel senso che ha fatto il gol del 2-1 che ci ha permesso di portare a casa i tre punti, è partito ovviamente l'entusiasmo a livello social, è l'unico modo che tra tifosi abbiamo di confrontarci adesso sul giocatore che è, c'è un po' di curiosità, io vedendone un po' di azioni quando giocava con il Brescia avevo azzardato una vaga similitudine con Gabbiadini, ecco direi di no perché è un giocatore molto più fisico che può fare la prima punta, lui si sente prima punta, può fare anche la seconda, ma è più un attaccante d'area di rigore che sa pulire i palloni, sa difenderli, ha una buona tecnica di base, questo sicuramente sì, l'abbiamo visto anche proprio nell'azione poi sprecata da Keita, ha lavorato bene quel contropiede pur dimostrando di non essere un fulmine di guerra in campo aperto, però l'ha lavorato bene, ha servito a Keita il pallone giusto, ovviamente insomma il colpo di testa su Zegelar è tanta roba perché salta altissimo contro un giocatore anche difficile da spostare, l'esultanza fa venire tanti rimpianti perché sarebbe stato bello vedere il Ferraris pieno venire giù al gol del 2 a 1, 6 e mezzo per Claudio Ranieri che glielo chiediamo sempre, glielo imputiamo sempre, cambi troppo tardi, cambi troppo tardi, stavolta ha capito cosa c'era da fare per sistemare questa squadra, questa partita, l'ha fatto nel momento giusto e con i cambi giusti, adesso ce li ha perché ha Keita che sta bene, ha Torregrossa in più, ha tanta scelta lì davanti, un po' più corto in difesa, ma insomma tornerà Tonnelli e forse arriverà qualcosa dal mercato, quindi ci sono buoni presupposti per il girone di ritorno, dobbiamo ancora però finire quello d'andata, lo faremo a Parma domenica prossima contro i Ducali, i nostri fratelli gemellati. Grazie a tutti, aspetto i vostri commenti qui sotto, ciao!